Francesco Maran, assessore alla mobilità del Comune di Milano. Io credo che sulla mobilità elettrica si sia pronti per fare nei prossimi anni il grande passo avanti di cui si parla da tempo. Stanno per arrivare infrastrutture di ricarica, però soprattutto su quei mezzi che hanno meno bisogno dell'infrastruttura, perché l'uso è compatibile con l'autonomia giornaliera. Io credo che a breve si possa davvero ottenere dei risultati, i prezzi stanno diventando quelli comparabili ai mezzi a motori endotermiche, quindi sia sul carico e scarico della logistica dell'ultimo luglio, sia sulle due ruote, gli scooter in particolare, sia forse anche sui mezzi in sharing, credo che a breve vedremo dei risultati e vedremo finalmente circolarene parecchi, cosa che fa bene all'ambiente e fa bene anche al nostro udito, perché spero che finalmente entrerà in agenda anche il fatto del rumore come un tema importante nella città.